Un'applicazione da scaricare su smartphone e tablet come guida sui servizi della città e per avere a disposizione tutte le informazioni turistiche salienti dagli itinerari agli eventi. Il Comune di Capodorlando sta per lanciare questo servizio utile a visitatori e residenti. Abbiamo in fase di realizzazione un'app per gli smartphone come Comune che consentirà al cittadino e al turista di avere tutte le informazioni necessarie sia per i servizi basilari sia per quelli che sono gli eventi e le manifestazioni. Questo lo riteniamo assolutamente importante perché ormai il cellulare è diventato il nostro primo compagno di vita per cui arrivare alle persone, agli abitanti, ai visitatori tramite questo mezzo ci sembra quello più diretto, quello più immediato e che ci possa consentire anche una risposta da parte dell'utenza per avere una risposta su quelli che sono anche gli aspetti ovviamente da migliorare sia da un punto di vista di ricettività, di assistenza turistica sia da un punto di vista proprio di trasparenza di atti amministrativi. L'app del Comune di Capodorlando integrerà un insieme di funzionalità specifiche per i cittadini residenti che potranno ricevere informazioni sull'attività amministrativa, consultare atti e rispondere a sondaggi. Su tutti quelli che saranno gli atti futuri dell'amministrazione potremmo decidere di attivare dei sondaggi per sapere in modo anticipato quale sia il pensiero ovviamente di quei cittadini che saranno attivi e che vorranno ovviamente rispondere a quelli che saranno i quesiti che l'amministrazione porrà.